La regata dei Gonfaloni, ormai un classico per la marineria pescarese dell'Adriatico. Quest'anno saranno ben 21 le squadre iscritte alla manifestazione che ha il sapore della competizione, anche del sano campanilismo, ma che rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare. La prima volta della regata risale al 1995, quando l'associazione Il Maestrale immaginò questa sana gara sportiva. L'evento poi ha assunto una notorietà crescente nel bacino dell'Adriatico e in alcune edizioni ha visto anche la partecipazione di equipaggi della sponda croata. L'evento sportivo si svolge con 10 vocatori per squadra, oltre a un timoniere, i quali si sfidano sulla distanza di un miglio marino. La manifestazione, che gode del patrocinio del comune di Pescara e della regione Abruzzo, nacque da un'idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina Sud, che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 edizioni fino alla sua scomparsa. Oggi il timone dell'associazione è passato al figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione in memoria del padre Giovanni. Sono 27 le edizioni con quella che si svolgerà il 3 e 4 settembre. Iniziamo da Molfetta, Bari, Vasto, Ortona, Termoli, abbiamo Martinsicuro, abbiamo Passignano anche, Olbia, molte squadre. C'è la gara maschile, si sviluppa in un miglio marino, sarebbe fanno due giri di boa. Poi c'è quella femminile, fanno solo un giro di boa, fanno mezzo miglio marino. E si fa a tempi, il miglior tempo si fa in finale, semifinale, roba varia. Rispetto, amicizia con altre marinerie, questo ha lasciato il mio padre. Se non saremmo arrivati a 27 anni, perché la gente vuole tornare a fare sempre questa gara di Pescara, che è stata la prima. Adesso fanno anche altre regate, altri porti, però la prima è stata a Pescara. La regata dei Gonfaloni, quando lei si insediò, fu il primo appuntamento da assessore. Non potrò mai dimenticare la regata dei Gonfaloni, appena insediata, è stato il primo evento che ho presentato. Oggi finalmente siamo arrivati alla 27esima edizione. Parliamo di un evento storico che rappresenta la tradizione della marineria. Quindi è giusto che come amministratore, ma soprattutto come assessore allo sport, cerco di promuovere al massimo questa splendida manifestazione e questa iniziativa all'interno della città di Pescara. Arriveranno 21 imbarcazioni da tutta Italia. Sì, è un grandissimo successo. 9 sono femminili e 12 sono maschili. Sarà una vetrina d'eccezione per il nostro territorio e saremo tutti pronti a tifare le nostre squadre.